Con intuizione, rapidità e soprattutto, grande sangue freddo, un ragazzino di soli 13 anni, ha salvato un intero scuolabus carico di ragazzini come lui, ma anche di bambini più piccoli. Il piccolo eroe è Dylan Rivas. Era il pomeriggio di mercoledì scorso e il 13enne stava tornando da scuola casa Warren, soborgo di Detroit, quando si è accorto che l'autista era in evidente sofferenza e poco dopo, mentre cercava di rallentare per fermarsi, è stata colpita da un malore improvviso che le ha fatto perdere i sensi e il controllo del mezzo. Grazie a un tempestivo intervento, Dylan ha evitato un incidente stradale che poteva concludersi in tragedia, come si vede in un video della telecamera di videosorveglianza a bordo del mezzo, diffuso dallo stesso distretto scolastico. Mentre tutti urlano dalla paura e cercano riparo, tra i sedili l'adolescente si fionda letteralmente sul volante, cercando di tenere diritto l'autobus, mentre col piede cerca subito il pedale del freno per arrestare la marcia. Non solo subito dopo il 13enne si rivolge agli altri ragazzi a bordo, imponendo loro di calmarsi di chiamare immediatamente i numeri di emergenza. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito anche se il malore dell'autista si è rivelato serio ed è ancora ricoverata in ospedale.